Riesumati nel cimitero di Montelupo Fiorentino i resti di Francesco Vinci sospettato di essere il mostro di Firenze e poi scagionato. Vincenzo Frenta. L'ipotesi è poco più che una suggestione verificare se Francesco Vinci sospettato per anni di essere coinvolto nei delitti del cosiddetto mostro di Firenze sia ancora vivo. A chiederlo è la moglie e il figlio che non sono mai stati convinti che l'uomo trovato carbonizzato e incaprettato nel 1993 fosse il loro parente o ma un altro cadavere. Il corpo era irriconoscibile, mancavano le mani, inoltre la donna ricorda qualche giorno dopo l'omicidio di aver visto il marito che si allontanava in auto salutandola. Lo disse ai carabinieri ma la cosa non ebbe seguito. Ora invece a dare credito a questa ipotesi è anche la procura di Firenze che ha disposto la riesumazione del corpo a cui seguirà l'analisi del DNA. Vinci che ora avrebbe 81 anni era stato indicato come responsabile di alcuni degli otto duplici omicidi di coppiette avvenuti in Toscana dal 68 all'85 ma fu scagionato quando il mostro tornò a colpire proprio mentre lui era in carcere. Se quei resti non dovessero essere quelli di Vinci si aggiungerà un nuovo mistero ad una vicenda densa di interrogativi.